Ma come guarda che loro... ...però che tempo non sono per la vostra... ...ma allora... ...sa qualcuna non mi ha sconso... ...se hai appreso... ...como io avevo... ...disco alla base del lavoro... ...un tabio... ...allora... ...vevo dire che... ...e cosa ci viene un po' eh... ...è che... ...ehh... ...allora che dicevo che... ...il genio di colore che si è la nota... Grazie. 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 Grazie.